Uno sguardo anche la cronaca nella nostra regione, ci spostiamo più precisamente a Bertiolo per parlare di un furto con spaccata in paese, sono state rubate le slot al bar centrale. Dopo i raid nelle case, nei distributori di carburante, anche un bar di Bertiolo ha subito la visita dei ladri, consistente il bottino che ammonta da alcune migliaia di euro. L'esercizio pubblico, il bar centrale, è ubicato proprio nel pieno centro del capoluogo, lontano dall'enoteca. Nel corso della scorsa notte, ladri sono penetrati nel locale danneggiando gli infissi ai propri annosi del contenuto delle slot machine posizionate nella sagua attigua. Nessuno dei vicini però ha sentito rumori sospetti alla fine, sono riusciti a darsi la gambe.